Volevo davvero ringraziarvi per mettervi così a nudo con me, non è una cosa scontata, non è scontato che lo faccia io, che ho bisogno di farlo, ma non è scontato che lo facciate voi e che lo facciate nel modo in cui lo fate, quindi con dei messaggi bellissimi, dei ragionamenti che secondo me ci fanno crescere. La radio per me è questo, è intrattenimento, sicuramente leggerezza e musica, anche un po' di casteggio, ma ogni tanto qualche discorso di quelli che vanno un po' più in profondità e che possono portare dei ragionamenti è qualche cosa in più. Grazie a Beppe, Beppino, Milano che è rimasto con me fino a quest'ora e oggi mi ha supportato più che mai perché per poco non mi va fuoco la casa, che c'è stato un cortocircuito con la pipì del gatto, del cane e i lavori che stiamo facendo, quindi per fortuna è andato tutto a posto. Torniamo domani, puntuali come sempre, alle 7 del mattino, 12 agosto, grazie, ciao, R101.